la rosa si sentiamo dalla rosa la rosa la rosa la rosa la rosa questa è la rosa la rosa la rosa la rosa la rosa la rosa Il caso Allora, avete già fatto l'imbarco? Già terminato? Allora, l'imbarco si simula facendo Biccon on, Biccon off e Biccon off, ci metterà 6-7 minuti. Tra poco inizia l'imbarco. A te la metà l'indica di destinazione? Sì, Lima Indio, Mike Junior. L'India. Oggi abbiamo un'ATC di eccellenza. Il grande remo Scagnesti con noi oggi, un evento veramente... Finalmente da volando. Siamo condizionati. Lo stand 407 Fiumicino. 407 Fiumicino. Vedete che ce l'hai? Vabbè... All'Italia 490... Prova radio. Siamo ancora facendo la venta. Ok, il nominativo. All'Italia 490... E spero che la sede la transisce su questa. Ok, non hai neanche 5 altro, ma hai detto comunque, giusto? Teoricamente. Siamo con le sintesi. Un po' chiaro, non c'ho la carta di Fiumicino, quindi mi affidiamo la che c'è a voi. Applicazione può fare il quadro. Non prenderà la sua volta, non ho la scuola, però non lo faccio nemmeno. Non prenderà la sua volta. Un totale. Tもの исca. Non è vero tutto. No, non lo faccio. Ok, guarda... Aia le corda. Ok, guarda. Ok, guarda. E' aperto tutto questo. Ok, ci siamo ragazzi, eccoci qua in diretta dalla Flight Sim Service, i nostri partner ufficiali, oltre ai collaboratori, ci troviamo con Andrea, ciao Andrea, fa il saluto, Matteo, ciao Matteo, ecco il grandissimo Fabio, ciao a tutti i amici di PIG. Allora per la suddivisione chi farà la prima parte, chi è che decolla? Decollo io. Decollo sei tu Matteo, quindi l'atterraggio lo farei tu, giusto Andrea? Yes. Perfetto. Quando volete possiamo anche cominciare con le prime operazioni. All'Italia 490, è pronto a copiare la clearance? All'Italia 490, autorizzato a Lima India, Mike Juliet, Genova, via Nenig 5 Alfa, salita iniziali 6.000 piedi, transponder 7.0.1.0. L'autorizzato all'aeroporto di Lima India, Mike Juliet, via Nenig 5 Alfa, iniziali 6.000 piedi, transponder 7.0.1.0. All'Italia 490, una correzione, la sintesa dalla Nenig 5 Alfa, con transizione Giglio 6 Golf. All'Italia 490, la ripetizione è corretta, richiamerà pronta la spinta e messa a volo. Io credete eravamo pronta la spinta e messa a volo dall'Italia 490. Ok. Vedi perché io voglio le cose di più vicino. Vai, tutto. Eh, dammi una mano. Vai. Eh no, perché le cose di più vicino sono strane, no? Eh, la mettono. Eh no, seguendo le carte, sì, no. No, non c'è. Bene, io chiudo qui, ci vediamo al landing point. No, eccoci a lei, no. Ofensate, pazzie. Foxati, pazzie. Kesà, pazzie, pazzie. Che dopo, c'è. No, eh, è... Aspetta, aspetta. Ora, perché le cose di più vicino. Grazie. 40 minuti, grazie 60 minuti adesso faccio si chiudono da sole alle volte? si, si al termine chiude l'ultima è sulle carri l'ultima è sulle roma 15 minuti 7,9 20 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 21 21 21 21 22 22 23 22 22 22 22 23 22 23 23 23 23 23 25 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 27 25 26 28 25 25 27 Sì, è più venti Guarda la gara, è passato, giusto? Sì, è già passato ancora a carica... Ah, aspettiamo il massaggio La cambia La session messa a rispondere Adesso Lascia sentire Bagnacca Bagnacca 1.013 Questa è una porta da mangiare, quelli eh Vediamo il boarding Andiamo Ok Il casano è il cargo Ma sei stato il caso Prima casano, perfetto Alla before start, facciamo And before Tocca per un proreparation Complete Sign or ADRS Ah, per fuori quanti Abboarding complete And after Nel And after It's complete Ok 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 Stare Now Guardi, aprile. Pronto, stai guardando. Ok. Aspetta. Pronto, pronti? Vai. Pronto per la spinta e messa in moto, l'Italia 490. Ok. All'Italia 490, spinta e messa in moto, approvata. Pro a sinistra, richiamerà pronto al taxi. Pro a sinistra, pronto. Iniziamo, push start, riporterò pronto al taxi. All'Italia 490. Packing brakes. Off. Ok. 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 So, secondo me ci eschitiamo. Ok. Bene, insomma, una fase di push back. Iniziamo in operazioni. Binta indietro. Vita a sinistra. Direzione dei compiti ragazzi uno pilota e l'altro fa il resto Fled control Andiamo al taxi Piazzare l'uscita Senti, noi quindi hanno mangiato il suo nome No, funziona Ah, come era? November? Hotel? Hotel November Golf, bravo Ok, a destra, ancora a destra Siamo a 13 km Siamo adesso partirei Uff, non ti scelgo November Golf November Golf November Golf dovrebbe essere qui a sinistra Esatto E alla prossima a sinistra, November Golf Sì 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 Sfalto Guarda Come si fa la cabina? La cabina è armato il primo switch a sinistra del pannello luci sotto In realtà quella lì non si può simulare perché ci deve essere un comando di conferma della cabina Quindi dalla per buona Occhi 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 C'è Occhi 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 C'è Comodo Non ci sono Ma io ci sono Ma io ci sono Poi c'è un'astrenica M-D Eh sì Grazie Sì, Daniela, esatto, siamo a Fiovicino, sono partiti dallo stand 407, si stanno andando ad allineare sulla 25, diretti a Ganoa Grazie no, a destra no, a destra bravo, l'imp Wing bravo la prossima uscita sinistra li vedi da qua? no prima l'Italia 4.09 al punto attesa 2.5 riporterà pronto la partenza riporto pronto la partenza bravo pista 2.5 l'Italia 4.90 stava chiedendo qualcosa a Andrea credo? no no stavo ah ok la prima la prima eccoci qua siamo a good in point la 25 i forti coffer bel controllo check un'intrument caso brief confirm flap set di cam le no no blu why right here ok attuali on volle auto Capri Q. Capri Q, Sitz, for take off. Punto attesa, bravo bravo, pista 2-5 all'Italia 4-9-0. All'Italia 4-9-0 autorizzato al decollo 2-5, vento calmo, riporterà in volo. Autorizzati alla partenza, l'Italia 6-1-2, 4-9-0. Qua tutto ok, qua ok. Non c'è la casca su questo. Si prova. Qua sta girando. Ok, riconferiamo al momento che il comandante e i comandi è Matteo, sarà lui a fare l'operazione del decollo. Si sta in under a 2-5 di più vicino. Ricordatevi il rudder. Non lo deve appoggiarci sopra la mano, sull'intensore, no, e teniamo. Responder? Questo. Ti muovo. Responder? Pronti? Vai. Via, sparte! Ma no, 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 no. Ti tieni contemporaneamente il joystick qua. Ma quindi no, sì, questo è una cosa la faccio. Vai, sì. Ed in odds, check. Grazie a tutti 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 Adesso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti